La salvezza è un incontro, uno sfiorare il mantello di Gesù, un farsi coraggio per andare verso il Padre e chiedergli perdono. All'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Francesco ha ripercorso nella catechesi l'episodio della donna che nel Vangelo di Matteo Gesù guarisce dalle perdite di sangue. Una donna scartata, evidenziato il pontefice, sulla quale posa il suo sguardo misericordioso. Un caso aggiunto che fa riflettere su come la donna si è percepita. Tutti, ha sottolineato, siamo messi in guardia anche le comunità cristiane da visione della femminilità inficiate da pregiudizi e sospetti lesivi della sua intangibile dignità. Il Vangelo però ha ripristinato la verità. Nell'incontro con Cristo si apre la via della liberazione e della salvezza. Il Signore ci dice coraggio, vieni. Per me tu non sei uno scartato, una scartata. Coraggio, figlia. Tu sei un figlio, una figlia. E questo è il momento della grazia. È il momento del perdono. È il momento della inclusione nella vita di Gesù, nella vita della Chiesa. È il momento della misericordia. Una salvezza che è luce perché riporta la donna nella comunità, liberandola dall'agire di nascosto, come accade, ha aggiunto il Papa, per i lebrosi di allora e per i senza tetto di oggi. Gesù, ha sottolineato, indica alla Chiesa il percorso da compiere per andare incontro ad ogni persona, perché ognuno possa essere guarito nel corpo e nello spirito e recuperare la dignità di figli di Dio.